Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta e senza servizi in video per uno stato di agitazione dichiarato dalla redazione di Teleponte. Chi vi legge è autorizzato dal comitato di redazione. La redazione e il direttore responsabile di Teleponte unitamente alla Sostampe e alla CGL hanno proclamato già dal 30 aprile lo stato di agitazione comunicandolo ufficialmente alla proprietà. Stato di agitazione confermato all'esito dell'incontro che si è svolto questa mattina con l'amministratore delegato Mario Schintu e con il presidente onorario Aldo Di Francesco. I giornalisti e i tecnici al momento in opera solo in rete e registrata sul sito di Teleponte per l'oscuramento del segnale si limiteranno dunque a leggere notizie astenendosi dai servizi audio video. Nella riunione di questa mattina non sono state fugate le preoccupazioni sulla situazione aziendale, sugli stipendi arretrati e sullo scenario futuro. Redazione e sindacati quindi hanno chiesto l'attivazione di un tavolo istituzionale presso la provincia e intanto attendono come da impegno assunto dalla proprietà questa mattina il pagamento di due mensilità entro martedì e un piano aziendale che dia garanzie rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Permane la preoccupazione per quella che è da oltre 30 anni una delle realtà giornalistiche più significative della nostra provincia e della nostra regione. Un luogo che ha raccontato e dato voce alle storie dei cittadini, alle vicende sociali e politiche, alla cultura, allo sport, all'associazionismo. Questo patrimonio vorremmo preservarlo e anche per questo riteniamo che sia necessario il coinvolgimento delle istituzioni locali per un'avvertenza che indubbiamente va oltre gli aspetti squisitamente aziendali. La cronaca, un incidente automobilistico qualche minuto fa sulla Teramo Mare all'uscita Teramo Ovest. Un uomo sulla Sessantina con un piccolo SUV è entrato contro mano nella carreggiata. Ha prima urtato contro una nuova Punto, ferito il conducente e successivamente si è schiantato contro un'altra autopunto vecchio modello occupata da due extracomunitari. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave, ovvero uno degli extracomunitari. La provincia di Teramo ha bandito la gara per i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza del liceo classico delfico di Teramo e per il saffo di Roseto. Gli interventi finanziati con 450 mila euro di fondi ministeriali, 250 mila destinati al liceo classico di Teramo e 200 mila al saffo di Roseto prevedono per entrambe le scuole tinteggiature, il fissaggio di elementi mobili e la sostituzione di infissi, porte e impianti non a norma. I lavori di sistemazione dei due edifici scolastici dovranno essere realizzati in tre mesi, considerando i tempi amministrativi per l'aggiudicazione definitiva, 30 giorni da quella provvisoria e della stipula dei contratti con le ditte vincitrici della gara. Gli interventi saranno realizzati nel periodo estivo e dovranno concludersi con l'avvio del nuovo anno scolastico. Gian Maria De Paulis è stato eletto all'unanimità presidente regionale del Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo nel corso della riunione del direttivo regionale tenutasi ieri all'Aquila. Alla riunione erano presenti i presidenti e i componenti delle sezioni territoriali dei giovani imprenditori delle Confindustria di Chieti, Pescara, l'Aquila e Teramo. Gian Maria De Paulis imprenditore del settore informatico e titolare della SICL Software Web Agency, azienda dallo stesso fondata nel 1998 e specializzata nella fornitura di servizi web, app per smartphone e tablet, marketing online e creatività digitale. Una realtà che negli anni ha ottenuto prestigiosi riconoscimento sull'intero territorio nazionale e la cui mission è stata sempre orientata all'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di innovazione e comunicazione. Arrivato in Confindustria in età giovanissima, Gian Maria De Paulis ha assunto già importanti incarichi. Nell'ultimo anno in Abruzzo la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici è aumentata del 13% rispetto al 2014, un risultato che ha spinto la regione a decidere di raddoppiare il numero dei centri di conferimento presenti sul territorio, che passeranno dagli attuali 51 a 100, con un investimento complessivo di 8 milioni e 600 mila euro. Si è aperta questa mattina nel campus universitario di Cose Sant'Agostino Teramo Comics, tra le più importanti fiere del fumetto nel panorama nazionale, in grado di abbracciare tutti gli aspetti della cultura pop contemporanea. Sono 39 gli espositori provenienti da tutta Italia che occuperanno fino a domenica 8 maggio l'intero blocco della Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione. La cerimonia di apertura ufficiale della fiera si terrà domani mattina alle ore 10 e 30 e ad inaugurare la Kermesse ci saranno il Rettore Luciano D'Amico e il Delegato di Ateneo al Welfare Christian Corsi. In occasione dell'inaugurazione è prevista anche una visita guidata. E adesso la pagina sportiva con il precedente positivo di Carrara, quando ad essere premiato fu Mirko Petrella, in occasione del match di domenica con il Ponte d'Era, ritorna il Man of the Match and Fair Play, seconda tappa stagionale organizzata dall'associazione Sport for Children Unlus. Al termine dell'incontro i Granati Biancorossi verrà consegnato un premio al miglior calciatore in ambo le squadre, votato da una giuria di giornalisti presenti. La maglia indossata dallo stesso verrà donata all'associazione medesima per un progetto sociale rivolto ai bambini con gravi patologie. Il basket domenica 8 maggio alle 18 al Palaborgognoni, Globo Info Service Campli. Gli amatori Pescara si sfideranno in gara 3 per decidere chi sarà la semifinalista dei play-off. Chi passerà tra Campi e Pescara incontrerà la compatta e coriacea Sansevero di coach Cohen. Dopo l'esordio di domenica scorsa a Cefalù, la meta a Teramo fa il debutto casalingo nella pool promozione Serie B, ospitando il forte Cerignola al Palas Capriano. Palla 2 alle ore 18 per la prima di due partite consecutive che il calendario propone. domenica, davanti al proprio pubblico, i biancolosi sono chiamati a cancellare la prestazione negativa offerta in terra siciliana. In casa Teramana preoccupano le condizioni di Salamina, non al meglio della forma dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Sicilia. E' proprio tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti per la visione, grazie a tutti per la visione, grazie a tutti per la visione.